Vuoi aumentare il tuo engagement per vendere i tuoi servizi? Ecco 15 call to action per i tuoi contenuti. Prima cosa importante, dobbiamo sapere in base all'obiettivo quale call to action utilizzare. Perché ricordati che ogni obiettivo è diverso. Quindi detto questo, per ogni argomento che noi scriveremo nel post, alla fine di tutto, lanceremo la nostra call to action. Quindi, 1. Vogliamo aumentare i like? Alla fine del post scriveremo Ti è piaciuto il post? Fai doppio tap. Oppure, ti è piaciuto questo post? Clicca mi piace. Oppure, clicca sul cuoricino se ti è piaciuto il post. 2. Vogliamo aumentare i commenti? Scriveremo Fammi sapere la tua nei commenti. Commenta qui sotto se hai dubbi. La tua opinione è importante per me. 3. Vogliamo aumentare i salvataggi? Salvalo per non perderlo dopo. Questo non devi assolutamente perderlo. Salvalo. Se ti è stato utile, salvalo. 4. Se vogliamo aumentare le condivisioni? Taggalo ad un amico interessato. Se ti è piaciuto, condividilo nelle tue storie. Condividilo con la tua community. 5. Per aumentare le vendite? Fai clic sul link in bio. Contattami in direct per avere più info. Se sei interessato, scrivimi in direct. Questi erano i miei consigli. Se ti è piaciuto, salvalo, condividilo e mi raccomando, un mi piace che mi fa sempre piacere. Alla prossima. Ciao. Grazie. 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 Grazie.